C'è stata una sparatoria in una scuola americana a Benton, cittadina di circa 4.000 abitanti in Kentucky. Due studenti di 15 anni, un ragazzo e una ragazza, sono stati uccisi da un coetaneo che ha aperto il fuoco tra le aule dell'istituto. Secondo il resoconto del governatore Matt Bevin, altre 12 persone sono state ferite dai colpi sparati, altre 5 hanno subito altro genere di ferite. Il presunto colpevole è stato fermato dalla polizia circa 10 minuti dopo i primi colpi sparati. Il responsabile è uno studente maschio di 15 anni, attualmente in stato di detenzione, ha spiegato Bevin, è stato arrestato in flagrante, senza ulteriori violenze e sarà accusato di omicidio e tentato omicidio. L'aggressore avrebbe agito da solo e gli inquirenti non ritengono che ci siano dei complici, sul caso comunque indaga anche l'FBI. La scuola teatro della sparatoria accoglie un migliaio di studenti adolescenti che arrivano dai comuni della contea di Marshall.